La gioia di essersi appena laureata è subito dopo aver incontrato due idoli come Cesare Cremonini e Gianni Morano. È successo qualche giorno fa a Francesca, una studentessa fuori sede che al termine della proclamazione a Bologna, ancora con la corona d'alloro in testa e un bocchè di rose bianche tra le ieri. È successo qualche giorno fa a Francesca, una studentessa fuori sede che al termine della proclamazione a Bologna, ancora con la corona d'alloro in testa e un bocchè di rose bianche tra le ieri. È successo qualche giorno fa a Francesca, una studentessa, con sua grande sorpresa, e incredulità. Cremonini e Morandi si sono avvicinati per complimentarsi con lei e scattarsi una foto in ricordo di una giornata così speciale. Giuro che mi hanno fermato loro ha scritto su TikTok, dove ha pubblicato il video, sollevando un'acclamazione popolare per i due amatissimi arti. Giuro che mi hanno fermato loro ha scritto su TikTok, dove ha pubblicato il video. Me lo merito anche io un Cesare il giorno della mia laurea commenta un ragazzo, mentre c'è chi ironicamente avanza richieste, ma pure semilaureo ha.